The Football Story 2030 presenta un mito del calcio, Aristide Guarneri, nato a Cremona il 7 marzo 1938, è un ex calciatore e allenatore italiano, noto per il suo ruolo difensivo. Iniziò la sua carriera come terzino ma fu poi impiegato principalmente come stopper, diventando uno dei migliori difensori d'Europa. In campo, prediligeva il gioco d'anticipo rispetto agli interventi diretti sull'uomo, una caratteristica che lo portò a terminare la sua carriera senza mai essere stato espulso, guadagnandosi così il soprannome di «stopper gentiluomo». Guarneri cominciò a giocare a calcio nella Juventina, squadra giovanile di Cremona, per poi passare al Codogno, militante in promozione. Nel 1957, all'età di 19 anni, si trasferì al Como, in Serie B. Il suo allenatore era un argentino di nome Ugo Lamanna, un uomo dei principi solidi e regole rigide. In quel periodo, i ritiri non esistevano ancora e il sabato sera i giocatori tornavano a casa con il pullman o il treno. Lamanna, preoccupato che i suoi giocatori potessero distrarsi uscendo di sera, chiedeva loro di consegnare le patenti, per garantirsi che restassero a casa. Un sabato sera, uno dei calciatori rifiutò di consegnare la propria patente e come punizione, Lamanna lo escluse dalla convocazione per la partita successiva. Di fronte a questa difficoltà, Lamanna promosse Guarneri in prima squadra, facendolo esordire in Serie B nel ruolo di terzino sinistro. Da quel momento, Guarneri divenne un titolare fisso della squadra, disputando 32 partite e dimostrando grandi qualità, tanto che nel 1958 l'Inter lo acquistò. Con i nerazzurri, l'occasione per esordire si presentò poche settimane dopo il suo arrivo, grazie ad alcune pessime partite del difensore Amos Cardarelli. Su indicazione dell'allenatore Giovanni Invernizzi, Guarneri fu convocato nel ruolo di stopper il 12 ottobre 1958 contro la Spal, in una partita che l'Inter vinse per 8 a 0. Come accadde già in precedenza al Como, il suo esordio all'Inter determinò in breve tempo la sua titolarità nella squadra, diventando una figura insostituibile. Dal 1962 formò con Armando Picchi la coppia difensiva centrale della grande Inter allenata da Elenio Herrera, vincendo tre scudetti, due coppe dei campioni e due coppe intercontinentali. Lasciò i nerazzurri nel 1967 per giocare una stagione al Bologna e poi un al Napoli, dove offrì un rendimento inferiore alle aspettative, anche a causa di problemi di ambientamento. Nel 1969 tornò per una stagione all'Inter, sotto la guida di Eriberto Herrera, ma non trovò spazio, disputando due partite in Coppa delle Fiere e tre nel finale di campionato. Nel gennaio 1971, pur richiesto dal Palermo, scese in Serie D, alla Cremonese, lasciando l'Inter dopo 335 presenze e quattro reti. Con la formazione grigiorossa ottenne la promozione in Serie C, disputando altre due annate da Capitano nella terza serie prima di ritirarsi nel 1973, a 35 anni. A livello internazionale, esordì in nazionale il 12 maggio 1963, nella partita vinta per 3-0 contro il Brasile campione del mondo. In maglia azzurra disputò 21 partite, con una presenza al Mondiale 1966 e due al vittorioso europeo 1968, in cui scese in campo contro la Jugoslavia in finale. Realizzò il suo unico gol nel 1966, in un amichevole contro l'Urs di Lev Giacin. Lasciato definitivamente il calcio giocato, Guarneri divenne allenatore della Berretti della Cremonese, con la quale conquistò lo scudetto di categoria nel 1974. In seguito, è stato vice di Giancarlo Danova al Sant'Angelo ed ha allenato il Fiorenzuola, entrambe in interregionale, oltre a Viadana e Soresinese tra i dilettanti. Nella stagione 1991-1992 è stato il vice di Luis Suarez sulla panchina dell'Inter, dopo l'esonero di Corrado Orrico. Terminata la breve parentesi come allenatore, Guarneri tornò nell'entourage della squadra nerazzurra, occupando diversi ruoli, tra cui quello di osservatore alla ricerca di nuovi talenti da inserire nell'organico interista. A livello individuale, è considerato uno dei difensori più importanti della storia italiana e negli anni 2000 è stato inserito nella Hall of Fame dell'Inter. Ti ringraziamo per averci scelto, e ti ricordiamo di iscriverti al canale e lasciare un like. Grazie.